Chieste di intervento, prego consigliere Rondelli. Grazie eccellenza, alcune considerazioni legate, mi collego anzitutto all'intervento del collega Mina con cui eravamo assieme all'assemblea annuale, alla sessione plenaria dell'OSCE. Io in particolare ho seguito l'attività del terzo comitato diritti umani e democrazia e sono intervenuto un paio di volte sia sulla sessione parallela sulle politiche di gender equality, quindi di uguaglianza di genere, portate avanti oramai come battaglia da più di varie legislature, essendo una delle più anziane, dalla capodelegazione canadese l'onorevole Eddie Fry, e in quel contesto si è ripetuto più volte come sia importante nei singoli parlamenti il ruolo delle donne e come sia importante sviluppare politiche di eguaglianza, di pari opportunità anche nell'ambito dei lavori parlamentari. Io credo che, ad esempio nel nostro piccolo, già il rivolgersi a un membro di questo consiglio di sesso femminile col termine, con l'appellativo di consigliera, sia un modo di sottolineare che c'è una pari opportunità all'interno di una differenza, invece di mascolinizzare il ruolo. Però questa è una mia convinzione che continuo a portare avanti in un ambito di linguistica delle pari opportunità che in alcuni contesti, come quello canadese, si sta sviluppando molto molto bene e che spesso e volentieri, e qui mi collega un fatto di cronaca, proprio di ieri, dove telecronisti di una importante manifestazione, telecronisti Rai per un'importante manifestazione, guarda caso due uomini, hanno fatto un elenco fuori onda di capacità delle atlete donne per cui potevano, diciamo, esprimere meglio certi valori in uno sport che non era quello della competizione. Quindi anche questo è professionalità e riconoscere che la diversità fra i generi sia in realtà un arricchimento e non un lavoro di sottolineatura di particolari situazioni. Poi ho anche avuto modo di intervenire partecipando attivamente al comitato appunto 3, al comitato sui diritti umani, dove per la prima volta sono venuti fuori vari interventi e anche alcune situazioni sul discorso del pericolo che molti parlamentari, molti esponenti politici che si dichiarano pubblicamente LGBT soffrono in una serie di paesi anche membri dell'OSCE. Quindi per la prima volta si è affrontata anche questa problematica e si è affrontata la problematica della possibilità non solo della rappresentanza di pari opportunità uomo-donna ma di libertà individuale se vi è una dichiarazione di orientamento sessuale o se anche senza dichiarazione vi è la possibilità di essere perseguiti per il proprio orientamento sessuale nell'ambito di una manifestazione di appartenenza politica. Credo siano argomenti molto importanti questi che si vanno a coniugare anche in parte con quello di cui abbiamo discusso fino ad ora. Anche da parte mia, come altri hanno sottolineato, credo che sia il segretario Pedini Amati abbia fatto un'opera giusta nel informare l'aula, poi sappiamo lui è molto vehemente nei modi e quindi lo ha fatto nei suoi modi, io credo che però vada sottolineata una diversità ovvero se è un qualcosa che viene svolto, di cui si è accusati che è stato svolto durante la propria manifestazione di appartenenza a un organismo politico quindi se è un reato riferito a un qualcosa fatto da parlamentare o da membro di governo oppure in caso specifico di vita privata. Questo si differenzia molto, è la differenza fondamentale, è la differenza basilare col caso della consigliera Elena Tonnini, che è stata accusata e denunciata in un tribunale esterno anche all'Italia per un qualcosa svolto da parlamentare e non nella sua vita privata. Quindi io personalmente sono convinto che sia qui la differenza fondamentale fra i due casi e anche il fatto che in un caso la difesa del ruolo di parlamentare che la consigliera Tonnini ha portato avanti col supporto di rete, con le spese di rete rassicuro il consigliere Muratori che evidentemente sa anche informazioni sul bilancio del nostro movimento visto che ha fatto delle affermazioni, ha svolto difendendo il ruolo del consigliere e la legittimità di un consigliere della Repubblica, di un parlamentare della Repubblica di esprimere opinioni nel suo ruolo di parlamentare e quindi cercando di difendere la Repubblica di San Marino e la libertà di tutti noi parlamentari di esprimere le proprie opinioni liberamente e non essere perseguiti in stati terzi durante il nostro mandato per le nostre opinioni politiche, per le nostre funzioni politiche. Quindi questa è una differenza fondamentale a mio parere che va sviluppata. Detto ciò sono anche molto d'accordo con il segretario Belluzzi e col collega che ha avviato il ragionamento sulla necessità di smorzare toni su queste situazioni e razionalmente affrontare le questioni per evitare che tutto si poi arrivi a svolgersi sulla pancia, sulla emotività del momento e soprattutto sulla funzione che uno svolge in quel momento. Noi dobbiamo lavorare con lucidità e con la capacità di analisi che deve portare tutti noi assieme a garantire l'indipendenza delle opinioni che vengono espresse in quest'Aula e la non perseguibilità delle opinioni che vengono espresse in quest'Aula, chiunque le esprima. Questo è il valore fondamentale che all'interno di questo Parlamento deve emergere. Tutti noi potremmo in un modo o nell'altro essere perseguiti per le nostre opinioni da parlamentari, ma tutti noi dobbiamo essere liberi di esprimere quelle opinioni in ogni momento e con la capacità del parlamentare, la lucidità che il parlamentare deve avere. Questo deve essere sia all'interno che all'esterno. Se il segretario Pedini Amati ha avuto il sentore invece che vi sia un attacco alla sua persona tramite un fatto personale, perché lui sarebbe in questo caso indagato per un fatto personale, era appunto come ha detto lui avvenuto mentre sarebbe stato in una città con la famiglia mentre lui era da un'altra parte, se c'è un attacco in questo senso credo che lui si debba giustamente difendere e ben ha fatto a rendere pubblica la sua vicenda perché a questo punto tutti noi siamo consci del fatto che se un attacco politico su questioni personali ci può essere, tutti noi dobbiamo lavorare affinché non ci sia, cominciando se serve da una situazione di maggiore tutela anche all'interno del regolamento dell'attività consigliare. In sintesi credo che sia sempre più necessario che noi tutti lavoriamo con lucidità, ci confrontiamo con lucidità sul ruolo che all'interno di quest'Aula dobbiamo svolgere affinché sia garantita sempre più la limpidezza dei nostri comportamenti ma soprattutto la libertà che tutti noi consiglieri della Repubblica parlamentari dobbiamo esprimere sia che ci troviamo all'opposizione sia che ci troviamo in maggioranza. Grazie.